Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale youtube. In questa video lezione parleremo di vitamine ed analizzeremo quelle liposolubili rimandando ad altro video quelle idrosolubili. Le vitamine sono sostanze organiche indispensabili all'organismo che devono essere introdotte nella quasi totalità attraverso la dieta in quanto non sono sintetizzabili dall'uomo. La maggior parte alimentare deriva dalle piante le quali sono in grado di sintetizzarle ma anche di produrre le provitamine che successivamente vengono convertite in vitamine dall'organismo umano. Caratteristica comune di queste sostanze è di agire in piccole dosi, infatti esse vengono classificate come micronutrienti che pur non avendo importanza né da un punto di vista energetico né da un punto di vista strutturale svolgono funzioni precise ed insostituibili. La richiesta giornaliera varia in funzione di alcune condizioni come la taglia corporea, la velocità di crescita, l'esercizio fisico e la validanza. Nel nostro organismo si trovano in piccole quantità dove rappresentano fondamentali cofattori enzimatici e ci proteggono dalle specie chimiche dannose prodotte dai nostri processi metabolici. Come tutte le sostanze chimiche le vitamine presenti negli alimenti possono essere degradate e perdere la loro funzionalità come ad esempio durante la conservazione, la cottura e la manipolazione degli alimenti ma anche da parte dei farmaci che possono alterare la loro azione biologica. Le vitamine vengono suddivise in due categorie vitamine liposolubili e vitamine idrosolubili. Le vitamine liposolubili vengono assorbite insieme ai grassi nel primo tratto dell'intestino tenue e accumulati in alcuni organi quali il fegato e il tessuto adiposo dove se in eccesso possono dar luogo a fenomeni di ipervitaminosi con l'isorgenza di intossicazioni più o meno gravi. Anche una carenza vitaminica può provocare l'insorgenza di diverse patologie dette di ipovitaminosi che però sono maggiormente diffuse nei paesi in via di sviluppo. Le vitamine liposolubili sono la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E e la vitamina K caratterizzate da una scassa polarità e costituite da catene carboniose cicliche e dalifatiche. La vitamina A è essenziale per la visione notturna. E' una vitamina liposolubile presente in tutti i tessuti animali nel latte e derivati e nei tessuti vegetali sotto forma di carotenoidi tra i quali più importante il beta carotene. Le verdure di colore giallo arancione come le carote e pomodori e quelle verdi a foglia larga come radicchio e spinaci forniscono una notevole quantità di carotenoidi che vengono assunti sotto forma di probitamine e successivamente a libero del fegato vengono trasformate nella forma attiva della vitamina A. Tra i carotenoidi ricordiamo il licopene che conferisce il colore rosso ai pomodori, la luteina presente nel tuorlo d'uovo. I tessuti animali particolarmente ricchi di vitamina A sono il fegato di bovino e suino e tra i derivati animali alimenti ricchi di vitamina A sono il tuorlo d'uovo e il burro. Si riconoscono tre forme di vitamina A che si contraddistinguono per avere differenti gruppi funzionali terminali e sono il retinolo, il retinale e l'acido retinoico. La vitamina A entra nel meccanismo della visione. Le cellule dei bastoncelli della retina che svolgono la funzione di fotorecettori contengono un composto chiamato arlopsina o porpora visiva sensibile alla luce di debole intensità cioè quella crepuscolare. Una deficienza di vitamina riduce la funzione dei bastoncelli e ciò comporta problemi nella visione durante questa fase crepuscolare. La vitamina A svolge anche altre importanti funzioni a livello del nostro organismo intervenendo nella differenzazione cellulare. Se vi è una carenza di vitamina A le cellule che secernano muco in molti tessuti epiteliali vengono sostituite da cellule che producono caratina determinando quella che viene chiamata caratenizzazione o xerosi della congiuntiva o della cornea e di altri tessuti. La vitamina A presenta anche una potente azione antiossidante e recenti studi hanno dimostrato una buona efficacia della vitamina A al pari della vitamina E. Un'altra vitamina liposolubile è la vitamina D che ha il compito di combattere il rachitismo. La fondamentale azione della vitamina D è l'omeostasi del calcio. Valori costanti di calcio plasmatico sono essenziali per la funzione nervosa, per l'accriccemento dell'osso e per il funzionamento dell'apparato locomotore. La carenza di vitamina D porta al rachitismo nei bambini e all'osteomalacia negli adulti. Il rachitismo è una patologia caratterizzata da difetto di calcificazione delle ossa, prevalentemente a carico della colonna vertebrale. Mentre l'osteomalacia è una malattia caratterizzata dalla rarefazione macroscopica delle ossa che risultano più incline alle fratture. Evidenza relativa alla diffusione del rachitismo in rapporto alla mancanza di luce solare erano già note alla fine del XIX secolo. In un primo momento questa patologia fu attribuita a fattori nutrizionali in quanto si dimostrò che l'uso di olio di fegato di merluzzo, di burro e oliva poteva contrastare in modo efficace tale malattia. Successivamente si è notato che il rachitismo poteva essere curato in modo adeguato anche attraverso l'uso di raggi ultravioletti di tipo UVB. Pertanto l'uso combinato di queste terapie ha permesso di combattere in modo efficace il rachitismo. Il termine vitamina D viene usato per indicare tutti quei composti steroidei che possiedono attività biologica del cole calciferolo, noto anche come vitamina D3. La vitamina D contenuta negli alimenti una volta assorbita a livello intestinale viene trasportata nel fegato. Qui dopo una serie di modificazioni a cui partecipano anche i reni viene prodotta la forma attiva della vitamina D che ha importante funzione ormonale in quanto promuove l'assorbimento di calcio e fosforo a livello intestinale e permette livelli adeguati di queste due sostanze per una corretta ossificazione. Solo pochi alimenti contengono vitamina D. Gli alimenti di origine vegetale forniscono basse quantità di questa vitamina, al contrario di alcuni alimenti di origine animale in cui si riscontrano notevoli quantità. Una sorgente molto ricca è l'olio di fegato di merluzzo, il tonno, la ringa e il pesce spada. Altra vitamina liposolubile è la vitamina E che è un potente antiossidante che protegge i lipidi dalla perossidazione. Appartengono alla vitamina E diversi composti la cui forma biologica più potente è l'alfa tocoferolo. La presenza di doppi legami o meno lungo la catena alifatica divide ulteriormente queste sostanze in alfa, beta e gamma tocoferoli e alfa, beta e gamma tocotrieni. Questa vitamina agisce come potentissimo antiossidante proteggendo i fosfolipidi di membrana dalla loro ossidazione. Essa è molto abbondante in alimenti come noci, oli, latticini, pesce e carne. Le condizioni di assorbimento sono le stesse dei lipidi. Esso viene incorporato negli interociti e successivamente immesso prima nel sistema linfatico e successivamente in quello sanguigno. A differenza della vitamina A che viene immagazzinata per la maggior parte nel fegato, la vitamina E è distribuita in modo omogeneo in tutto l'organismo e soprattutto nel tessuto adiposo, nel fegato e nei muscoli. Il ruolo biologico principale della vitamina E è quello di proteggere gli acidi grassi polinsaturi e altre componenti delle membrane cellulari dall'attacco dei radicali liberi, responsabile della perossidazione lipidica. Questa peculiarità è resa possibile grazie a interazioni chimico-fisiche della vitamina con gli acidi grassi dei fosfolipidi. Questa interazione rende quindi più compatta la membrana cellulare ostacolando l'attacco da parte dei radicali liberi. Questa vitamina è anche molto importante per gli atleti in quanto rinforza le membrane muscolari e un diuretico fisiologico che regola la pressione del sangue e aumenta l'apporto di ossigeno ai globuli rossi. Sono rari i casi di ipovitaminosi nel mondo occidentale, dove si potrebbe presentare nel caso in cui ci fosse un cattivo assorbimento dei lipidi. Un eccesso di vitamina E può provocare disturbi alla vista, stanchezza e mal di testa. Ultima vitamina liposolubile è la vitamina K che è essenziale nei processi di coagulazione del sangue. Per vitamina K si intende un gruppo di sostanze liposolubili che a livello metabolico nella forma biologicamente attiva garantisce la corretta funzionalità di alcune specifiche proteine, implicata nel legame del calcio nelle ossa e in alti tessuti e nella coagulazione del sangue con attività antiemorragica. Senza vitamina K la coagulazione del sangue è gravemente compromessa e può determinare sanguinamento incontrollato. Si distinguono la vitamina K1, la vitamina K2 e quella K3. Quest'ultima viene prodotta sinteticamente. La vitamina K1 è chiamata filochinone, viene prodotta nel nostro organismo attraverso l'alimentazione, in particolare dagli spinaci e dai cavoli. La vitamina K2 è detta menanchione ed è invece prodotta dalla flora batterica intestinale. I precursori della coagulazione del sangue K dipendenti sono delle proteasi sintetizzate dal fegato e immesse nel circolo sanguigno. La vitamina K introdotta con la dieta, principalmente sotto forma di filochinone, è assorbita a livello dell'intestino grazie all'intervento dei sali biliari. A livello della mucosa intestinale, essa è incorporata nei chilomicroni, viene secreta nella linfa e successivamente nel sangue. A livello del sangue, essa si associa alle lipoproteine LDL e VLDL e solo una piccola parte si trova in forma libera. Una volta si pensava che la vitamina K venisse sintetizzata dal fegato, invece scoperte recenti hanno suggerito che quest'ultimo è invece responsabile della riattivazione della vitamina. La vitamina K è largamente distribuita negli alimenti, nella frazione lipidica di molti tessuti animali e vegetali. Elevate quantità sono presente negli ortaggi a foglia verde come il cavolo, spinaci, lattuga, nonché nel tè come bevanda.